Questa è la ronza, la ronza, la ronza, del distorsore della chitarra, chitarra di Tony, eccolo qua, che ci deve, deve rimanere concentrato, ecco, concentrato, allora facciamo partire questo solo, tutto in diretta, tutto in diretta, registriamo in diretta, vai! Ecco qua, Enichi ha fatto lo scherzo registrato, e invece no, perché non erano armate le tracce, vedi? Ecco, peccato, bisogna rifarlo. Lo rifaremo, lo rifaremo. Ciao!